oh che bello allora salve ragazzi qui dal 38 come va che si dice oggi ci facciamo un bel video indovinate un po tatatata di mortal kombat mobile si parla un po a bassa voce perché oggi abbiamo ospiti operai di tutti di più e ho visto una cosa togliti togliti ho visto una cosa finalmente finalmente no no chi se ne frega di questo no no ma a parte oggi la saga cyborg e la miseria però io volevo vedere un'altra cosa avevo letto avevo letto una cosa interessantissima avevo visto parte di gratis quindi approfittiamo ti è allora oggi parliamo di mortal kombat sapete che dal 5 oggi è il 3 4 quindi dopo domani usciranno finalmente i nuovi costumi di mortal kombat infatti porterò il video con i nuovi costumi è naturale allora card pack ah beh questo voglio come skin di e questo sarebbe una bella skin di cassie questa qui d'archettona comunque punk che gli hanno da due versioni a quanto pare brava no è la stessa con l'immagine girata volevo trovare dove ecco qua il gratis allora oggi parla di mortal kombat però intanto giochiamo un attimo ci faccio qualche bella partita spacchiamo spacchettiamo spacchettiamo è buono personaggio e mamma mia quanto roba allora ecco qua smoke raga smoke avete capito abbiamo smoke intanto del regalo settimanale bella ottimo dai shop now fate un'idea che cosa mi dice ovvio spende soldi per avere lui e vi piacerebbe bello davvero bene oltre che stanno lavorando perché oggi ho gli operai voglio vedere un'ultima cosuccia no è sempre lo lo stesso allora andiamo qui potrei sbloccare la skin di melina eh tanto dobbiamo giocare quindi a sto punto facciamo cosce allora oggi risponderò alle domande alle domande di persone vabbè iscritti che mi hanno fatto in questi giorni e oggi mi dedico proprio a questa cosa allora filippo mi fa due domande di cui molto interessante intanto lascio che combattiamo e ci meniamo tanto con lui già è bello fortissimo infatti vedete non si vabbè il sergente è talmente op che che mena pure sonia blade cioè qualcosa di boh vabbè li ho fatti a belli livelli alti li ho potenziati quindi vedete com'è bello avere poi anche i bronzo livelli potenziati perché livelli sia tu e livelli loro e quindi saranno poi utili a a reggere anche nella campagna cosa che la campagna non sto facendo da un botto intanto rispondiamo alle domande la prima domanda era delta tu ce li vedi ferrator come ferrator come prossimi nomi per il combat pack 2 allora in teoria no per un banale motivo perché ferrator come comunque mortal con ci ha fatto abituare certi personaggi hanno un finale che purtroppo possa essere veritiere in senso che senso purtroppo come ormac che nel 10 è andato sull'isola di shansung e viene prosciugato da shansung e shansung ritorna e la stessa situazione proprio che nell'11 conferma che shansung ritorna e scompare ormac al di là che poi lo vediamo morire nella cripta che poi al di là che può essere canonico non canonico che ci sta una citazione o che un riferimento ermac fa effettivamente una brutta fine scompare quindi fino a qua non lo rimostreranno in qualche modo o se no dovranno fare ermac del passato che cronica ha richiamato involontariamente come tanti altri personaggi quando ha fatto tutta quella cosa del dello spazio tempo ha mischiato era insomma però ferrator per esempio non è possibile perché ferrator è un personaggio che autoconclusivo nel 10 ovvero che è stato creato e cara il ferra ferra sarebbe la tizia che controlla tor quel coso o maccione e in teoria loro sono come è lei lui è lei anzi ferra è come venom con spider man lei è un simbionte praticamente si attacca e ci campa con torro in questo caso e la cara ferra praticamente dopo lascia quello a morire e lei prende il posto di torre diventa un titano un gigante grosso muscoloso femminile che prende poi comandi per sopravvive da uno dello della sua vecchia razza quindi diventa una come ferra che in quanto pare era ferro perché hanno trovato per dire che quello era maschio quindi deve essere maschio e femmina se ferra era femmina deve trovare un torre maschile di quella razza e stessa cosa viceversa e quella è una donna deve trovare una versione maschile di chi lo controlli cioè capito è un po un è un gioco di ruolo che devono purtroppo fare in generazione in generazione quindi c'è sempre la variabile e finisce che che stesso ferrator non esiste proprio palesemente perché è morto torre almeno nella trama nella conclusione della del suo capitolo e fa capire che scompare quindi c'è stata una citazione ma niente di più poi ferrator mi sembra che sono pure ammazzato quello che ho capito i resti di i resti di ferrator lo dicono in una delle conversazioni di mortal kombat 11 quindi è pure morto quindi è improbabile che l'avrebbe proposto insomma al dia perché un personaggio anche di mortal kombat 10 quindi avrebbe forse anche evitato proporlo come come pack o personaggio dlc per il combat pack 2 sicuro bene questa era la prima domanda ma la seconda e molto anche più interrogante e interessante delta volevo volevo un'opinione tu chi vorresti come dlc per il combat 2 inclusi i gist characters sempre se li metteranno e parentesi questo secondo il tuo gusto personale e poi secondo i gusti generale generali si ho capito che secondo le intende infatti ti spieghi meglio beh riesci se riesci dimmi quali dlc vorresti tu e quali dlc pensi che vorrebbe il maggior parte del pubblico va bene la gente allora qui l'ho detto molte volte lo ripeterò sempre allora per il personaggio di combat pack 2 io spero assolutamente melina sector cyrax e poi se l'ultimo magari takeda anzi in realtà smoke questi sono i quattro personaggi che voglio perché melina è sempre la questione che fa kitana melina cioè c'è il versus storico di kitana e melina quindi se ha messo kitana mi dovete mettere melina stessa cosa equivale se mi mettete sector mi dovete mettere cyrax stessa cosa smoke lo dovete mettere che avete messo noob cybot che fanno coppia praticamente come sono stati messi loro due contemporaneamente in mortal kombat 3 anzi no mi sembra nel nel 2 no no nel 3 nel 3 mi sembra che erano stati messi giocabili no smoke mi stava messo già giocabile nel 2 mi sembra eh no questo lo devo rivedere perché non mi ricordo bene il roster classico mo lo controlliamo subito ma mi sembra che forse sto dicendo ovviamente una sciocchezza intanto dal tablet e il computer aspettate roster mortal kombat 2 sì perché mi è venuto il dubbio eh attenzione eh infatti infatti mi ricordavo bene nel roster di mortal kombat 2 non c'è sta non c'è sta perché smoke come noob cybot erano ancora secret come personaggi sì 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 e allora mi ricordavo dal 3 in po' li hanno messi giocabili e li hanno messi contemporaneamente poi quindi sicuro e poi c'è anche da dire che sector cyrax vanno a coppia anche con smoke essendo che c'è la situazione di triborg parentesi perché triborg è nato con la fusione dei dati di sector cyrax e smoke poi anche i dati vabbè di subzero cyborg ma avendo già subzero quindi c'è sta già e questo è uno questo è per il combat pack 2 per me poi per quanto riguarda gli inclusi i good character perché poi dipende se li mettono perché dovrebbe essere attualmente xena e ash i due personaggi che stanno vogliono proporre insomma poi non lo so se è vero o no perché sapete hanno fatto molti fake quindi non è che sono veramente chiari la cosa aspettate ecco e per quanto riguarda quello che vogliono invece il pubblico per il combat pack 2 vogliono sicuramente takeda vogliono ash tutti i costi anzi vogliono anche michael myers e poi come altro personaggio era diciamo che vorrebbero se non erro quale altro personaggio vorrebbero aspettare vabbè sicuramente smoke ma melina è su richiesto tantissimo quindi melina sempre lei quella è purtroppo dipende dal sapete da che cosa perché se dobbiamo valutare anche i good character che non sappiamo se è uno o due personaggi per pack o uno per pack perché purtroppo questa è la domanda perché se fosse stato uno per pack sarebbe melina mio avviso per esempio smoke e magari sector e poi xena e magari nel prossimo sarebbero takeda syrax ash e poi l'altro non lo so posso improvvisare non so chi altro potrebbe proporre io spero sempre reptile o earmac ma anzi avic direttamente avic o striker io spero sempre però come vi ho detto è un punto interrogativo è un grande punto interrogativo si deve aspettare le news in questo fine mese o metà mese già il fatto che esco la dlc delle skin per il 5 è già interessante dobbiamo aspettare pure per il 25 le altre skin dei personaggi femminili classici quindi sono molto interessanti quindi vuol dire che hanno un progetto di mostrare qualcosa e non credo solo skin quindi staremo a vedere insomma quindi sì io spero assolutamente melina sector, syrax e smoke poi se effettivamente vogliono mettere un personaggio guist quindi extra nel roster allora spero che a posto di sector o di syrax mi mettono xena però poi pretendo che sector o syrax dipendo dove l'hanno messo se è il combat pack 2 o 3 lo devono per forza ammettere anzi per un banale motivo perché è la questione del versus raga come ad esempio xena che il suo versus deve starci per forza e qual è il suo versus? il suo versus può essere benissimo Ash o Havik capito? perché Havik è più portato perché è una questione di caos e poi è un personaggio che va nei vari ere capito? quindi è da non sottolineare sta cosa e quindi e questa è la questione dobbiamo un po' valutare come se l'ha sostudiata come appunto per Joker e Spawn sono un versus che loro le hanno messo per questione di versus che uno è un anti-hero e l'altro è un villain ma nello stesso tempo lui o dei pagliacce che ha avuto un cattivo che è proprio nel film del suo film del 98 di Spawn il suo cattivo che ha affrontato era appunto un pagliaccio con la faccia da pagliaccio quindi Joker ci ha giocato benissimo su questa cosa anche se ripeto Joker proprio in Mortal Kombat non ci potevano evitarlo bellissimo che abbiamo il doppiatore originale quindi fantastico uno dei doppiatori della serie animate quindi grande stima ma diciamo Joker effettivamente non è che c'è sta molto in Mortal Kombat ok? che c'è stato perché c'è stato il capito del versus ok? Mortal Kombat vs DC Universe ok? per carità c'è sta ma noi sappiamo tutti che in quel capitolo è stato considerato il peggiore per la questione delle fatality ed è vero era il peggiore ma staremo a vedere in futuro ve lo dico sempre ve lo dirò sempre dobbiamo aspettare io ho sempre detto la mia però io so che il pubblico vogliono Michael Myers vogliono Ash vogliono personaggi anzi vogliono pure assolutamente Takeda e vogliono assolutamente personaggi che effettivamente mi ha sorpreso sentire per esempio si Melina però non vogliono che ne so anzi forse anche Goro vogliono assolutamente però come vi ho detto è tutto un punto interrogativo se fossi per i sviluppatori io avrei aggiunto un'altra colonna di personaggi e avrei concluso tutto perché avrei messo sia i quiz extra più avrei messo quei 7 8 no diciamo quei 8 personaggi extra che posso completare diciamo il roster no 8 diciamo quei 7 in più che possono aumentare il numero dei roster dei personaggi bah staremo a vedere perché ricordiamoci che 8 personaggi sono di cui 2 potrebbero essere guist però è un punto interrogativo non è confermato cioè purtroppo non è confermato niente fino a quando non sanno loro a mostrare essendo che tutti sono stati dei fake o buona parte alcuni possono essere veritieri alcuni sono dei scherzi perché ricordiamoci che la cara casa sviluppatrice in questione sta lavorando a un altro suo progetto che l'ha dichiarato apertamente e non sappiamo su che cos'è non sappiamo se è un altro un gioco che è dedicato ai personaggi cinematografici non sappiamo se è un picchiaduro non sappiamo nulla e non sappiamo neanche se sta sfruttando lo stesso stile di design o comunque base di personalizzazione di Mortal Kombat 11 quindi sono tutti punti interrogativi bene detto questo stiamo giocando abbiamo finito anche qua giusto? abbiamo finito? se abbiamo finito però sto schiattando di caldo fa pure molto caldo facciamo l'ultimo combattimento penultimo in realtà mamma mia smoke voglio sbloccare smoke versione classic io sono curioso per le skin invece di Mortal Kombat perché mo che usciranno il 5 diciamo tema estate tra virgolette tema estate di cui abbiamo Kitana con una skin molto elegante quindi sembra quelli là settecenteschi poi abbiamo I Want You di Blackjack eh Blackjack Black Aaron Black scusatemi mi sono confuso con l'attore e il nome mi sono atto distratto infatti e e poi abbiamo Baraka che mamma mia è fantastico sul fatto che richiama i serial killer psicopatici quelli là con il macete no gli assassini quelli là che adorano ammazzare i macellai impazziti infatti si conferma con la salficcia sul petto il cappello da cuoco poi lui è cannibale quindi c'è posto a tutto cioè è un bel riferimento più horror c'è sta uno direbbe eh ma non è a tema neanche a tema estate molti l'hanno scritto io gli ho detto perché volevi vedere Sonia Blake con la ciambella o Baraka con con che ne so con con la mascherina in faccia per notare cioè non credo credo sarebbe stato un po' un insulto che guarda quindi non credo che avrebbe fatto costumi estivi veramente ma non farebbe neanche quelli natalizi se lo volete potete sapere però i costumi a tema Halloween c'è stanno infatti usciranno l'8 ottobre sono molto curioso qua l'8 mi sembra quando è l'8 ottobre mi sembra sì più o meno non mi ricordo le date dell'uscita e poi ultima cosa importante intanto andiamo al negozio sì perché abbiamo madonna smoke bello che sei dobbiamo fare qua ecco così apriamo e vediamo che cosa ci esce e stavo dicendo insomma mi dimentico poi abbiamo poi abbiamo per il 25 di questo mese agosto abbiamo le skin classiche femminili e una è Sonia ok sì io credo che Sonia è la versione di Mortal Kombat 2 con i capelli corti riaggiornata rivisitata soprattutto bellissimo ovviamente abbiamo anche potenziato Kotal K che da un pezzo che non lo potenziavamo quindi ottimo e che stavamo dicendo poi un'ultima cosa importantissima e poi ci sono due personaggi femminili sempre e qualcosa mi dice che sono Jade e Scarlett e spero che sono versione di Mortal Kombat 3 perché sarebbe una figata poi stiamo a vedere magari fanno un riferimento di Armageddon o altri capitoli intanto voglio vedere la card che è importantissima credo che l'avete già capito di di Smoke dove è Smoke 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 a parte guardate quanti bei personaggi eh mamma mia no voglio voglio vedere Smoke ecco vedi loro dove boh mettere anche questa skin qua per per Scarlett te ve lo dico lo devono mettere intanto ve lo faccio vedere mamma mia è troppo bella questa skin perché metto delle belle skin qua e non le voglio e non le propongo nel gioco cioè guarda questa ecco perché mi piace troppo questa qua di Cassie la aggiorano un poco diventa una figata Aaron Black eccolo qua guardate com'è bella questa skin vedete ci sono tante belle skin interessantissime che potevano introdurre per come si chiama Mortal Kombat 11 vabbè questa già è la base ah beh c'è sta questa per la Jade eh vedete possono fare delle belle posso riproporre queste belle skin che hanno messo in mezzo nel nel 10 insomma cioè nel nel mobile lo potevano fare intanto scendiamo vediamo perché voglio vedere eh voglio assolutamente vedere qualche altra skin magari possono proporre ah questa devono proporre ormai hanno fatto Liu Kang versione festa della muerta e a sto punto mi dovete mettere anche Kitana cioè l'avete fatta ecco la festa il giorno dei morti e dei non morti ecco pure Jade la stessa cosa mi dovete mettere questa skin eh non dite che non sono belle dai se lo meritano vabbè ah questa è la skin dell'uno eh Mortal Kombat 1 vedete ecco che ho detto ci può stare che lo vogliono introdurre per per Mortal Kombat 1 che comunque è diverso dal 3 sarebbe bello anche le skin ecco come cosplay che avevano introdotto vedete eh se può fare insomma l'unica cosa che io voglio vedere mamma mia dove sta dove sta oh non ce sta non è possibile oh eccolo vediamolo oh guardatelo che bello eh lo dobbiamo sbloccare quando faremo l'evento suo perché Smoke sono troppo curioso di affrontarle ma non si può affrontare non abbiamo l'occasio di affrontarle e testarlo nel combattimento madonna no tutti i scorpion qua no lo so era per vedere però vorrei anche avere l'onore di vedere niente vabbè ci ho sperato no no questi sono troppo deboli mi fanno un culo così sono del livello 41 i miei al massimo sono al 30 e cosa non ce l'ha fatto vabbè raga io qua vi saluto spero che ho risposto bene alle domande che vi interessava assolutamente e per il resto ragazzi sto moreno di caldo oggi usciranno altri video come sempre ti saluto tanto Filippo e qui del 38 al prossimo video passo e chiudo